Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo, tempo ancora in genere buono al nord est, ci attende una domenica tutto sommato tranquilla. Il dettaglio del 29 novembre. Sul Veneto in montagna il cielo sarà sereno al massimo velato, maggiori addensamenti sulle prealpi. In pianura al mattino qualche nube bassa o nebbia che renderà grigio il cielo ma sarà destinata a dissolversi con il passare delle ore. Temperature minime tra meno 3 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo lo stesso scenario, il sole sarà dominante solo con locali addensamenti, specie in mattinata. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno fino ai 4 gradi, massime invece sugli 8-11 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà una bella giornata qui di sole, il cielo sarà al massimo velato, qualche annuvolamento sarà possibile ma solo localmente. Temperature minime intorno allo 0, massime fino ai 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio fiamma.